Presidente Marchesani, ennesima vittoria della gestione Maffezoli, partita punto a punto dura, maschia e nel finale il sangue freddo di Santi Angeli dalla Lumina. Sì, in effetti è andata così, è andata bene, partita durissima, decisa proprio allo scadere sui tiri liberi di Marco, devo essere onesto, era più una gara da X come nel calcio da pareggio perché assolutamente Ravenna non meritava la sconfitta, però purtroppo e meno male per noi la partita l'abbiamo portata a casa, erano due punti fondamentali e sono due punti in più per questo obiettivo della salvezza. Adesso c'è Rieti per dare domenica la svolta definitiva a questo campionato? Rieti è una partita importante, è chiaro che noi accusiamo assolutamente l'assenza di Davide Meluzzi. Come sta? No, sta migliorando, è una distorsione alla caviglia, speriamo di recuperarlo per Rieti, chissà, altrimenti per la prossima sicuramente sarà in campo.